Sindaco Cialente, la Gran Fondo dell'Aqui, la prima edizione, una grande manifestazione e un grande successo. Grande successo, ho appena salutato addirittura uno sportivo, un ciclista arrivato da Manchester con la famiglia. Beautiful, beautiful, perché la cosa importante è che il percorso è veramente bello perché noi abbiamo la fortuna di queste nostre aree che si attraversano qui nell'Abruzzo interno. È un grande successo, lo ripeteremo organizzandolo sempre meglio. Si lega all'operazione che abbiamo fatto l'anno scorso della cima a Pantani, che è una sfida. Io già mi sto preparando per riuscire a farla come si deve a settembre, se ci riesco. Sindaco, due parole sulla WISP a Bruzzo Molise che organizza sempre manifestazioni importanti dando a tutti la possibilità di partecipare, dai più giovani ai meno giovani. Ma guardi, io posso rilevare un piccolo segreto. 43 anni fa, giovanissimo, studente, appena studente di medicina, a Lago fondammo WISP e Arci. La WISP ha sempre avuto questo ruolo. Dà la possibilità di fare sport anche a chi lo fa ormai a livelli quasi paragonistici, paraprofessionali addirittura, ma anche a chi lo fa a livello amatoriale. La cosa bella è che qui oggi sono partiti insieme, quelli come sarei partito io se non avessi avuto un problema destinato a impiegarci 7, 8, 10 ore, ma parte anche poi quello che in questo momento è il campione d'Italia che ha fatto un tempo eccezionale. Questo è un po' il senso dello sport. Grazie.